Quando esce l'ultimo led, via! Davanti a Rumener, Golden Mendes, Elegant Image, Spirit Grey, Monte Urpino, Temistocle, Paramuslera, Rontestar, Monami, Birrarossa all'inizio della curva. In vantaggio Grid Challenge, Davanti a Rumener, Golden Mendes, Elegant Image, Spirit Grey, Monte Urpino, Monami, poco prima dell'ingresso di Dittura, in vantaggio Grid Challenge, Davanti a Rumener, Golden Mendes, Elegant Image, i cavalli entrano in Dittura. Con Grid Challenge, in vantaggio lungo la corda, Davanti a Rumener, Golden Mendes, a centropista, Spirit Grey, seguono Monte Urpino, passa Rumener, Davanti a Golden Mendes, Spirit Grey, Grid Challenge, Salar Tornier, Fierre, a centropista, e in vantaggio Rumener, attaccato a centropista da Salar Tornier, passa Salar Tornier, Davanti a Rumener, Golden Mendes, Monami e Spirit Grey. E ve l'avevamo detto che questa era la corsa più difficile di tutto il pomeriggio. bella, incerta, Salar Tornier, puntualissimo, con spunto esterno, Germano Marcelli, 7,44, che bella presa. E poi gli altri lì, una valanga a lottare con Rumener che l'ha svettato e che quasi sembrava abbastanza in salvo. Gran corsetta anche per Golden Mendes, e come no, e come no. è ancora al terzo posto, poi arriva Monami, ora o mai più, mai più, mai più, con il nostro Monami. Ma la linea invece torna Luigi!